Siamo live, in questo momento siamo live. Benvenuto Federico Campagna. Buonasera. Buonasera e benvenuti e benvenuti a chi ci sta seguendo in questo momento. Come dire, a microfoni riuniti, siamo in diretta su varie pagine perché ci tenevamo a presentare con tutti i grismi l'ultima uscita di Edizioni Tlon, uscito poco prima Julian James, in questi giorni, è uscito un bel libro di The Good Lobby di Alberto Alemanno poco prima, è uscito invece Scegliere il futuro di Cristiana Fighere e Tom Rivekarnak, lei è stata la negoziatrice degli accordi sul tema di Parigi, e oggi invece siamo qui per raccontare Magia e tecnica di Federico Campagna, un libro che è uscito prima in inglese e che da qualche giorno è disponibile anche in Italia. grazie appunto alla disponibilità di Federico anche a mettere mano al testo inglese che è nato, anzi questo te lo chiedo subito, come è stato per te approcciarti a questo trasloco? È stato, come dire, un ritorno a una casa in cui il libro è stato pensato o il libro è stato pensato in inglese ed è arrivato poi in italiano? Ma, in un posto in mezzo, nel senso che poi è il posto in cui abito io. Ma prima di tutto volevo anche io ringraziare Tron per la cura meravigliosa che hanno avuto, soprattutto nella produzione del libro e tutto quello che ne hai seguito, quindi grazie. Anche è raro trovare una casa editrice così piccola e così, però così attenta al lavoro, quindi grazie davvero. Per quanto riguarda la domanda, io in realtà sono un emigrante, sono un emigrante di famiglia, nel senso che la mia famiglia ha generazioni che emigra. Io sono arrivato in Inghilterra 15 anni fa quasi e quindi mi trovo in uno spazio, diciamo, più o meno intermedio e anche a pensare mi trovo in uno spazio intermedio, sincretico, diciamo, anche tra le lingue. E quindi scrivo in inglese con elementi italianeggianti nella sintassi e trovo delle difficoltà poi a trasporre in italiano perché mi mancano dei pezzi di vocaboli, sembra strano, ma poi uno dopo un po' inizia a perdere la dimestichezza con tutte e due le lingue e si trova in mezzo. E quindi in realtà è un po' lo spirito anche del libro, è questo, il sincretismo, cioè trovare una strada rispetto alle identità, alle posizioni, alle cose che non coincida con nessuna di loro. Diciamo, a me sembra culturalmente un fenomeno interessante, filosoficamente e politicamente una strada da percorrere, però per quanto mi riguarda mi è anche capitato come condizione esistenziale, quindi forse è anche per questo che mi interessa. Chiarissimo. E sai, stavo riflettendo in questi giorni sulla... Il concetto è abbastanza solito, usuale, quello della sovrapposizione tra traduzione e tradimento. Noi abbiamo in parte tradito il titolo originario del libro, perché era Technic and Magic, ed è diventato Magia e Tecnica, abbiamo ribaltato. E abbiamo ribaltato il libro stesso con lo specchio, tu parli proprio di questi cardini interni in cui Magia e Tecnica si guardano l'un l'altro, e vorrei proprio cominciare da qui, da questa, diciamo così, istanza speculare. Mi viene in mente Borges, che come sai, è uno dei grandi ispiratori del mondo di Zlon, quantomeno del nome, ma poi di tanto altro, quando diceva appunto, faceva dire che gli specchi e la copula sono diabolici perché moltiplicano gli esseri umani, per quel che mi riguarda è una delle immagini più forti che si possa immaginare. E noi abbiamo rispecchiato il titolo del libro, da Tecnica e Magia è diventata Magia e Tecnica. Ti va di raccontare di più sulla struttura del libro, e quindi cominciare anche a dare dei riferimenti semantici sul concetto di Tecnica e su quello di Magia. Sì, beh, guarda, secondo me, generalmente quando, se posso fare un brevissimo escursus, da un momento che io di lavoro appunto sono in parte tuo collega, nel senso che mi occupo di editoria, anche io, e devo dire quando anche da autore, pensando a un titolo, c'è un elemento di marketing nel titolo, nel senso che, ovvero, non tanto di bieca promozione, ma più che altro di comunicare brevemente di che cosa si sta parlando. Quindi un titolo deve riuscire a fare questo. E la cosa che mi ha interessato è che con l'editore inglese la cosa che era più interessante era la tecnica, cioè un apporto, diciamo, di critica culturale rispetto all'esistente. Con l'editore italiano la cosa che sembrava invece più interessante era la magia, cioè un approccio più propositivo. Adesso non voglio ne trarre nessuna conclusione da questa cosa, però è interessante la differenza di quello che si va cercando in un testo. Forse rispecchia anche un'atmosfera culturale. Ma per quanto riguarda la struttura, beh, quella è una delle cose che mi ha appassionato di più nel comporre il libro. In parte un libro, ovviamente, cioè la parte più importante, ovviamente, è il contenuto. Però la forma del libro, questa è una vecchia lezione, soprattutto dei calligrafi islamici nel mondo arabo, ancora oggi nel mondo occidentale, diciamo una cosa che si è un po' persa da qualche tempo, era molto in auge nell'antichità, ma pensare alla forma del libro è come parte strutturale di un libro. E quindi mi è piaciuta l'idea di dargli una forma a specchio, completamente a specchio, con anche un cardine nel centro, perché volevo in qualche modo rivelare subito nella forma un pezzo del contenuto. L'idea è questa. Tra le varie cose che discute questo libro, nella parte più propositiva, suggerisce un modo di immaginare che cosa sia la realtà e come funzioni, che prende spunto, soprattutto, tra le altre cose, ma soprattutto, dal pensiero neoplatonico. Il pensiero neoplatonico è un pensiero che arriva all'inizio della tarda antichità, è uno sviluppo del pensiero di Platone nelle sue parti più esoteriche, quindi anche quelle più autentiche, esoteriche nel senso letterale del termine, quelle non scritte, e che va a toccare molti dei temi che tratto anche io, soprattutto l'idea dell'ineffabile, cioè l'idea che al cuore della realtà ci sia qualcosa che va al di là di qualunque possibilità di nominarlo, di chiuderlo dentro al linguaggio. Il neoplatonismo è molto interessante, perché poi in realtà si concentra non tanto sull'ineffabile, ma sulla cascata che parte dall'ineffabile, che da quella cosa che è fuori delle parole, crea il linguaggio. Per fare questo, i neoplatonici di solito fanno queste strutture complessissime, in cui c'è una gerarchia di diversi punti, un po' come lo faccio nel mio libro, una serie di ipostasi, esattamente la parola che prendo da loro, con delle incarnazioni archetipe che di solito nel neoplatonismo hanno a che fare con divinità greco-romane, oppure con elementi di astrologia più tardi, quando si perde il paganesimo, perché il neoplatonismo ha una vita lunghissima, che tra l'altro dura tutt'oggi. Ecco, in questo senso io volevo ricalcare questa struttura, e così l'ho fatto, però avendo due temi di cui parlare, mi piaceva poi metterli in una maniera speculare, metterli insieme. In questo modo speculare, in realtà ho preso ispirazione da una cosa che non verrebbe subito in mente, cioè dal sistema di contabilità di Luca Pacioli, in una vita precedente, non tanto di tanto tempo fa, ma abbastanza precedente, e mi sono occupato di economia, ho studiato quello, e devo dire, non era un appassionato di contabilità e bilancio, pochi lo sono, però mi aveva molto affascinato il fatto che Luca Pacioli, che era un religioso, un pensatore, un matematico, un filosofo, avesse trovato un modo di creare la partita doppia, per cui nel capire, diciamo, i movimenti di cassa di una qualunque impresa, o qualunque cosa, si arrivasse comunque sempre a un sistema di parità. La cosa meravigliosa è che in entrambi i casi, le perdite e le uscite, le entrate in qualche modo si pareggiano sempre, e c'è questa idea di una armonia, anche nelle cose, tra virgolette, più triviali come il denaro. E questo mi ha un po' influenzato anche nel pensare di come strutturare questo scontro fra le due realtà di cui parlavo, la tecnica e la magia. In un certo senso sono completamente opposte, in un altro senso si compongono insieme. Perché ovviamente il punto, io credo, sta nel fare un superamento di ogni specifico sistema di realtà verso l'idea che i sistemi di realtà sono manipolabili e sono inventabili anche. Perissimo, guarda, a questo proposito io vedo, che in tanti, in diversi, non in tanti, si sta provando a, ora la dico in maniera anche un po' brutale, diciamo a ripercorrere il gesta che hanno portato alla creazione della filosofia. Se con Colli siamo d'accordo sul pensare che la filosofia nasca dalla commissione tra due istanze paradossali quando unite, cioè da un afflato mistico e da una matrice politica e quindi sono due fiumi che si uniscono. Quindi quello politico, diciamo, anche proprio relativo alla vita della polis, della società, della comunità che appunto ha a che fare con la disposizione a reggere il mondo, dall'altra poi c'è un versante mistico che pertiene, secondo Colli, poi a tutto il tema del Dionisico. Ecco, mi pare che questa sorta di reinvenzione della filosofia, senza voler essere troppo arroganti, però sia uno dei tratti fondativi di diversi tentativi contemporanei. E molto spesso parte, quantomeno nel mio caso è partito da là, ma in diverse altre persone da una sorta di, possiamo definirla, depersonalizzazione. Cioè nel momento in cui il mondo cessa di avere dei confini stabili e definiti e mi viene in mente la filosofia di Montale non si diseppia forse un mattino andando in un'aria di vetro arido e avvolgendomi dovrò compirsi il miracolo, no? E quel miracolo cos'è? E il nulla alle mie spalle il voto dietro di me. Ed è proprio quel crollo che tu racconti bene in Magia e Tecnica della scenografia, del fondale. E allora vorrei ascoltarti, vorrei sollecitarti su questo versante del fondale e chiederti anche se c'è stata una tua, diciamo così, relazione con questo processo di depersonalizzazione che non ha semplicemente a che fare con il dato estrinseco, diciamo narrativo mondano della caduta del sipario, meglio, delle quinte, ma che ha a che fare contestualmente con il crollo della propria percezione di separazione e soprattutto di delle bacchette in un certo senso che collegano lo sguardo al mondo e chiederti di conseguenza se il processo stesso di stesura, ma al di là di questo, di ricerca che ti ha mosso, ha a che fare anche con questa sorta di tentativo mistico-politico. Sì, sono tante cose, cercherò di toccarne almeno qualcuna il meglio che riesco. Prima di tutto sul rapporto fra mistica e politica, per aggiungere una nota biografica che non è presente nel libro, ma è sempre stato un tentativo che ho provato a mettere insieme. Da un lato, diciamo, la mia, tra virgolette, area di appartenenza politica è quella dell'anarchismo con, da un lato, elementi individualisti e dall'altro con elementi autonomisti come nel 77 italiano, ecco, di quel tipo di autonomia, bifiano, per così dire. E dall'altro, invece, la mia sensibilità personale è sempre andata nella direzione del del pensiero religioso di tipo, in particolare, di tipo mistico, più che di tipo magico. Ecco, devo dire sempre di tipo mistico. Infatti, si vede anche nel libro, insomma, le fonti principali sono il sufismo, devo dire, soprattutto il sufismo, la vaità vedanta in parte, ma anche, soprattutto, il sufismo e anche le declinazioni sciite, diciamo, di quello che sarebbe l'equivalente del sufismo nello sciismo. Quindi, ho sempre cercato di mettere insieme le due cose. Mi è sembrato, devo dire, che le due cose vadano di pari passo tranquillamente, nel senso che una relazione politica di tipo anarchico e una spinta di tipo mistico si trovano veramente molto bene insieme. Questo è ovviamente il caso in Simone Veil, per esempio, un altro tipico esempio di un connubio fra queste due cose, fondamentalmente, anche se lei aveva un modo molto più rigido di quello che io cerco di portare avanti, ma anche di vedere l'impegno politico. E mi è sembrato che poi in realtà queste cose fossero avvenute anche in tante altre esperienze, per esempio nel 77 italiano. C'è stato, ci sono stati molti tra i vari fiumiciattoli che sono poi usciti da lì, molti sono andati in questa direzione di questione fra mistica e politica. E in questo senso, anche nel cercare di scrivere il libro, diciamo, più che cercare di rifondare la filosofia, che non è il mio tentativo, non sono Wittgenstein, non risolvo i problemi filosofici per sempre, però ho provato ad avere un approccio diciamo che non fosse puramente accademico. Questo vorrei chiarire nel senso che non penso che l'approccio accademico al pensiero sia, sicuramente non è sbagliato, sicuramente non è inutile ed è una cosa molto importante e di grandissima utilità in qualunque campo si applichi. E tuttavia deve essere corroborato, io credo, anche da un modo di porre all'attenzione soprattutto di magari di chi non è esattamente uno specialista su quel micro problema, le cose in una maniera per cui non sia necessario aver letto troppo prima. Ecco, in questo senso ho provato un po' come succedeva agli inizi della filosofia, se uno legge Platone diciamo la bibliografia che c'è dentro i testi di Platone è praticamente nulla a parte Gorgia e Parmenide, ecco, forse, ma perché era una società in cui i libri erano effettivamente molto pochi, eppure si faceva filosofia. Poi in maniera interessante proprio da Platone nasce l'accademia, quindi il modo accademico in realtà viene da lì, ma prima dell'accademia c'era un modo di cercare di porre le cose per cui ogni riferimento è spiegato e il libro deve restare in piedi da solo, non deve aver letto tutti gli altri libri per poterlo capire. Invece per quanto riguarda la questione sulla depersonalizzazione, sì, questo è un argomento che non tratto nel libro, però ne ho trattato di recente in un'intervista con Laura Tripaldi che aveva, penso, citato tra l'altro la stessa poesia di Montale per iniziare la nostra conversazione. Io stesso ho avuto esperienza di disturbi di depersonalizzazione, che detto così sembra una cosa tremenda, in realtà semplicemente sono degli attacchi di panico, però molto fastidiosi, che danno una sensazione di uscita dalla realtà. O per meglio dire, la realtà rimane lì, sei tu che ne esci, e questa è la strana cosa, non si capisce poi bene dove sei finito a quel punto. Ora, questo non è niente di grave, però è una cosa molto fastidiosa, che però ti lascia anche delle curiosità. Per esempio, io dove sono, dove si finisce quando la realtà torna a te, scompare, e del resto di cosa hai fatta veramente la realtà in questo senso. Ecco, quindi forse da lì parte anche un interesse personale nella metafisica, tendenzialmente, cioè nello studiare le strutture fondamentali della realtà. Poi invece nell'andare a cercare di capire come sia possibile modificare il nostro modo di intendere la realtà, utilizzare la metafisica per scopi politici e così via, ecco, quello invece viene dall'altra parte che stavo dicendo prima. Mentre sul contenuto e il cuore della mia proposta invece lì è ovviamente il, insomma, quello che ho imparato leggendo i maestri del misticismo e i commentatori sui maestri del misticismo. Guarda, sono diverse coincidenze affascinanti nel senso che i prossimi due libri di Tron saranno Deutsch, Abbaida Vedanta, un'introduzione filosofica e Bifo, come sicura il Nazi, una riedizione di un vecchio testo. In cui parla della cortesia, tra l'altro, all'inizio degli anni 90 parla della differenza tra cortesia e nazismo. è un libro bellissimo scritto ai tempi della guerra in Jugoslavia. Quello è un libro meraviglioso. Il consiglio ai nostri ascoltatori di comprarlo appena esce. Grazie, grazie. E poi sì, questo tema di... Non sapevo della tua citazione di Montale, noi ne parliamo spesso perché l'abbiamo analizzata quella poesia a lungo, la portiamo... L'abbiamo scritto in un libro di qualche anno fa con Maura Gancità. Oggi, ad esempio, abbiamo pubblicato un post su cui ti sollecito che è quello dei cosiddetti lager libici e cioè della condizione in cui in questo momento si sta riflettendo nel Parlamento italiano che vorrebbe appunto rifinanziare i carcerieri le milizie private in Libia che appunto intendono come dire bloccare il flusso delle persone dalla Libia verso verso la civilizzata Europa e a me pare come dire correggimi se sbaglio magari potrei prendere una strada sbagliata mi pare che ci sia in un certo senso un tentativo anche di costruire è come Platone cioè Platone quando scrive La Repubblica non solo sta cercando di immaginare un mondo in cui l'assassinio di Socrate non sia pensabile diciamola così e mi pare che il tuo libro sia anche un tentativo di immaginare un mondo in cui delle persone non vengano bloccate perché non hanno le credenziali giuste è corretto? è pensabile anche in questo verso? Questo è esattamente quello che ho cercato di fare esattamente nel senso si scrive un libro per tanti motivi perché uno ha voglia per l'ego personale perché uno sa fare solo quello però poi tendenzialmente uno cerca di scrivere un libro anche per ottenere un risultato insomma non un risultato ma per contribuire a muovere il discorso verso una direzione ecco esattamente la direzione in cui io volevo cercare di contribuire a muoverci è esattamente questa è l'esempio dei Lager Libici e tra l'altro è non nello specifico quello dei Lager Libici ma di come vengono trattati i migranti soprattutto nel Mediterraneo dico soprattutto nel Mediterraneo perché è quello di cui io conosco meglio la situazione ma questo poi ovviamente non toglie che anche nel confine col Bangladesh ci sono situazioni molto simili oltre che in Guatemala e così via ecco per far sì che queste situazioni non fossero più possibili non fossero più possibili però in che senso di solito diciamo da a sinistra per cercare di rendere certe cose impossibili si spinge molto sull'impossibilità morale ovvero cercare di dire che certe azioni devono diventare impossibili che non si devono fare mai più perché sono cattive ora questa cosa va bene filosoficamente e sono anche d'accordo però non funziona politicamente l'imperativo morale mi sembra che abbia sempre una delle molle più deboli nei comportamenti umani sia individuali che collettivi quello che invece mi sembra abbia più efficacia è rendere le cose impossibili perché sono superstizioni perché sono false cioè non sbagliate ma false allora in questo senso io volevo provare a immaginare un sistema di realtà cioè un modo di comprendere come è fatta la realtà attorno a noi per la quale quel tipo di attività fossero paragonabili a bruciare le streghe nelle valli della Valtellina come facevano nel tardo medioevo noi quando guardiamo bruciare le streghe non tanto pensiamo che cosa cattiva ma pensiamo che orrore che cosa superstiziosa da selvaggi ok noi quando pensiamo a queste cose che appartengono a mondi e a realtà diverse da quella che noi pensiamo oggi sia la verità e qui volevo ottenere come risultato quello secondo il quale spostandoci in un sistema di realtà differente guardando questo tipo di attività si avesse esattamente la stessa reazione tra l'altro perché sono abomini completamente comparabili nel senso che sono degli abomini e dei massacri su larga scala che riescono a sorreggersi soltanto sulla base di astruse superstizioni che di per sé hanno bisogno di una fede per essere mantenuta che in confronto alla chiesa cattolica medievale chiedeva molto meno in cambio per poter essere creduta cioè noi per poter tenere in piedi un sistema che sulla base della fantasia delle nazionalità per esempio condanna al massacro uomini, donne, bambini anziani, malati persone esattamente come noi soltanto perché hanno un un passaporto di tipo diverso questa è un'aberrazione che in confronto guardare il modo in cui trattavano i nativi americani nella Spagna dopo la conquista non è molto diverso c'è bisogno di questo tipo di investimento in un sistema di realtà assurdo ora per sconfiggere questo io credo bisogna puntare soprattutto sulla assurdità di questo sul suo essere sulla base di superstizioni e non tanto sulla sua cattiveria ma semplicemente perché penso che abbia anche storicamente ha avuto meno forza insomma l'appello morale piuttosto che non l'appello al cambiamento di realtà Federico è arrivato un bel messaggio da parte di Pablo che scrive perdonatemi non ho letto il libro però mi sta appassionando questa discussione mi viene in mente che materialismo razionalismo e neopositivismo sono probabilmente il crinale sul quale la filosofia intendo in senso letterale la ricerca della verità ha prevalso nell'evoluzione del pensiero scientifico appunto e filosofico in sostanza quelle occidentali sono società basate sull'approccio scientifico razionale e materialista la mia domanda è se e come l'accezione di magia nel senso di ineffabile e o di ciò che non si può spiegare e comprendere con un approccio logico e sillogico possa conciliarsi con i fondamenti della cultura occidentale in genere senza derivare in particolare in assunti teologici che è altro e allora io su questo ti chiederei come dire di rispondere alla domanda anche introducendo i termini introducendo ad esempio la magia come la tratti tu cioè intesa come arte dei magi in senso etimologico il riferimento alla cultura zoroastriana dei persiani e quindi anche introdurre il concetto che sviluppi di tecnica da Heidegger a Severino a Spengler e via dicendo ok grazie auguri grazie Paolo Paolo per la domanda che è molto estesa ovviamente io tra l'altro non ho le competenze scientifiche contemporanee per poter parlare con cognizione di causa degli ultimi sviluppi della scienza contemporanea quindi mi limito a parlare in senso filosofico che è l'ambito in cui mi trovo più a mio agio ma tra l'altro questo è interessante quando parlavo con Laura Tripaldi lei invece è una scienziata questi esseri mitologici scienzi ma scherzo e lei invece ha un modo molto interessante di vedere le due cose quindi invito Pablo a leggere in generale il lavoro di Laura Tripaldi che parla molto bene di questo ma in primo modo mi riguarda invece nel mio modo di guardare alla magia e alla scienza in questo caso non le vedo come due cose che si escludono reciprocamente prima di tutto questo non è mai stato il caso nell'antichità nel senso che il sistema di realtà di cui ancora non ho parlato ne parlo come se tutti sapessero di che cos'è ma poi magari dopo spiego un po' meglio comunque questo sistema di realtà che suggerisco di considerare è in linea con molte tradizioni mediterranee in particolare che sono andate sempre mano nella mano con gli sviluppi della scienza penso soprattutto a come il famoso neoplatonismo di cui parlavamo di cui parlavamo prima si vada poi a sviluppare nella tarda antichità soprattutto nella zona di Alessandria d'Egitto per esempio è della stessa zona in cui si va a sviluppare la grande scienza la grande scienza greca ecco quindi sono e molto spesso si hanno questi rapporti vicini in che modo possono stare insieme secondo me nel mondo contemporaneo tendenzialmente occupandosi ciascuna del proprio ambito di realtà per dare un piccolo spoiler la mia idea di fondo è considerare la realtà attorno a noi non soltanto come una dimensione monodimensionale ecco come una realtà monodimensionale che può essere colta a un solo livello a livello per esempio delle macchine che possono prendere e cogliere gli elementi scientifici o a livello del linguaggio ecco il linguaggio della finanza il linguaggio della nazionalità la nostra realtà si presta anche a questo e va benissimo e c'è un livello della realtà che effettivamente rientra nell'ambito del linguaggio rientra nell'ambito della cattura del linguaggio e in quel livello gli strumenti linguistici sono effettivamente capaci ed efficaci nel capire e nel muovere e nel trasformare le cose la scienza contemporanea si occupa giustamente essendo un sistema linguistico di quel livello e a quel livello è efficace e se c'è un problema che avviene a quel livello effettivamente bisogna prestare ascolto a quello che dice la scienza detto questo la realtà è composta di più livelli un modo facilissimo per comprenderlo è immaginiamo semplicemente il mondo per come lo possiamo cogliere noi noi esseri umani abbiamo delle capacità percettive che sono ovviamente limitate essendo noi delle strutture biologiche insomma limitate e quindi quello che noi vediamo attorno a noi in questo istante è un per così dire un livello della realtà è quello che è all'interno di ciò che noi possiamo percepire con i nostri mezzi dentro questo ci sono tanti sottolivelli per così dire quello che noi possiamo veramente verbalizzare quello che possiamo sentire in maniera emotiva e così via ovviamente quello che avviene dentro questa stanza in questo istante attorno a me e intorno a voi è molto di più di quello che noi possiamo cogliere ma questo non è ovviamente una strana speculazione è un pensare normale un cane vede in bianco e nero ma ciò non significa che attorno a lui il mondo sia veramente in bianco e nero è solo una limitazione ora di questi altri livelli ulteriori sebbene non se ne possa parlare però non bisogna tacere in qualche senso è il contrario di quello che diceva invece Wittgenstein bisogna ricordarsene bisogna trovare dei modi per ricordarsi che al di là del livello linguistico quello per esempio in cui la scienza funziona ci sono dei livelli della realtà degli oggetti attorno a noi che in questo istante sono già attivi e che vanno al di là delle nostre capacità di dirli di coglierli con il linguaggio e a volte proprio di esperirli cioè di averne esperienze in ogni senso questi però esistono esistono adesso in questo istante c'è molto di più dentro questa penna ora l'esempio che facevamo prima dei migranti è l'esempio ultimo dell'imbarbarimento di quando si pensa che la realtà sia fatta solo di un livello per esempio il livello del linguaggio a quel punto si diventa così ciechi a tutto quello che è al di fuori del linguaggio tutto quello che non è nel sistema classificatorio in quel caso delle nazionalità che anche di fronte a un essere umano che puoi esperire in tutti i modi possibili e immaginabili eppure se manca quella spunta linguistica è come se svanisse ecco questo è l'esempio estremo di cosa succede quando si pensa che un solo livello della realtà esiste io cerco di spingerlo completamente nell'altra direzione e qui Andrea se me lo consenti cerco di spiegare in che modo intendo anche la parola magia lo farò brevemente come dicevi giustamente il termine viene dalla tradizione zoroastriana i tre re magi del presepe ovviamente devono il proprio nome alla casta dei sacerdoti della Persia zoroastriana quindi la Persia è arrivata per moltissimo tempo prima dell'arrivo degli arabi il nome magia come lo prendiamo noi è una parola greca noi abbiamo molte parole persiane prese dai greci una per esempio è paradiso paradiso viene da paradeisos voleva dire giardino in farsi e poi diventa anzi non in parlavi e poi diventa paradiso in greco magia viene dai magi però in greco diventava magike tecne cioè l'arte dei magi questi magi erano i preti appunto non solo della Persia ma per i greci erano i preti dell'arci nemico dovete immaginare una situazione come una guerra fredda lunghissima per cui c'erano queste due potenze completamente opposte ideologicamente che si odiavano quindi l'arte della casta sacerdotale degli altri del nostro acerrimo nemico che non solo era il nostro acerrimo nemico ma il contrario di noi loro sono barbari schiavi noi siamo liberi forti e così via ecco va a caratterizzare un potere una forza che rispetto al sistema di realtà che è nostro che è noi adesso è quello di un altro è letteralmente un altro mondo ecco in questo senso io ho cercato di usare la parola magia proprio in senso letterale volevo intendere un sistema di realtà che sia rispetto al nostro quello che la magike tecne è l'arte dei magi era rispetto al pensiero dei greci chiarissimo e grazie io appunto ho registrato delle pillole con Matteo Trevisani che è il direttore editoriale della casa editrice con Tiziano Cancelli redattore e mi hanno raccontato che hai parlato anche di un tema che mi ha messo molto a cuore come spunto di riflessione che è l'apocatastasi mi viene in mente la prima lettera ai Corinzi in cui appunto c'è questo riferimento al tutto crede ma anche tutto spera e questa diciamo così speranza ha a che fare con una mi viene in mente Heidegger e Sloterdijk quando Sloterdijk risponde ad Heidegger dicendo non siamo ancora stati salvati perché soltanto un Dio può salvarci come dire lo sollecitava il primo involontariamente e forse non siamo ancora stati salvati e vorrei sollecitarti su questo perché lo siamo stati da sempre o perché alla fine verremmo tutti salvati e cioè in che modo l'inserimento nel paradigma del concetto di apocatastasi può rigenerare un nuovo equilibrio e quindi battere un nuovo tempo nel metronomo del mondo allora vorrei cercherò di evitare di ripetere quello che di cui ho parlato con Matteo e Tiziano così insomma per dare un po' di varietà questo elemento dell'apocatastasi anche per non fare falsa pubblicità non è all'interno di questo libro ma è all'interno del libro successivo che è uscito adesso in Inghilterra che si chiama Prophetic Culture che ha una sezione dedicata per l'appunto all'apocatastasi prima di tutto magari per chi ci ascolta che cosa che cosa è l'apocatastasi diciamo che nel nostro modo comune di pensare cosa succede alla fine del tempo se pensiamo appunto con una mentalità pseudo medievale si parla sempre di apocalisse alla fine del tempo arriverà l'apocalisse l'apocalisse tendenzialmente ce la immaginiamo come questa grande spianata in cui verranno divisi i buoni dai cattivi i cattivi andranno nell'inferno per sempre e i buoni andranno in paradiso per sempre l'apocatastasi è un altro modo di pensare cosa succederà alla fine dei tempi e parte da un'intuizione che ovviamente è particolarmente rilevante per il cristianesimo ovvero che secondo il cristianesimo Cristo viene mandato sulla terra per salvare tutti però il problema è che se se l'inferno invece rimane pieno di gente vuol dire che Cristo non è riuscito in questo intento in qualche modo ha fallito ha vinto il padre il padre e il figlio invece ha perso secondo il pensiero dell'apocatastasi invece il figlio ha vinto e il padre diciamo non è che ha perso ma in qualche modo è stato superato e l'idea dell'apocatastasi è che l'inferno è completamente vuoto e che c'è in realtà soltanto il paradiso l'inferno è un momento di rimorso nel senso che secondo questo pensiero alla fine dei tempi ci si accorgerà che siamo tutti salvati che siamo tutti destinati al paradiso chi si è comportato male per così dire per un attimo si guarderà indietro vedrà quello che ha fatto e sentirà un momento di pentimento e di rimorso e quello è l'inferno ma non più di quello Satana stesso verrà salvato e secondo la storia tutto questo è già avvenuto nei tre giorni in cui Cristo è stato dentro il sepolcro cosa ha fatto in questi tre giorni è andato all'inferno ha salvato tutti tutti quelli di prima eppure tutti quelli che verranno dopo a parte questa digressione su che cos'è l'apocatastasi l'ho detto in maniera molto breve chi è interessato può leggere da origine in poi c'è una tradizione molto bella sull'argomento quello che mi sembrava interessante era il concetto di salvezza piuttosto rispetto al concetto di sicurezza questa è una cosa invece che è più presente nel libro che c'è adesso il concetto di salvezza è qualcosa che ha che ha a che fare con quell'ineffabile di cui parlavo rispetto al sistema di realtà della magia la salvezza non è la stessa cosa della sicurezza perché la salvezza ha un'ambizione molto più grande ovvero la sicurezza vuole cercare di mantenere la struttura delle cose nel mondo linguistico così come così come è tendenzialmente e questo provoca una serie di problemi è uno dei tipici attaccamenti verso cui i saggi taoisti e i buddhisti si scagliano così frequentemente non è possibile mantenere uno stato permanente dentro le cose ma del resto la sicurezza punta anche al fatto che spesso si cerca un senso di valore rispetto alle cose appunto all'interno dell'ambito linguistico cioè all'interno di quell'ambito in cui siamo capaci di identificare le cose catalogarle darle un ordine un sistema e tenerle più o meno ferme così ora è anche uno dei motivi per cui la sicurezza ovviamente deve necessariamente mandar via un sacco di rifiuti di cose che non stanno giustamente nel sistema che vanno a scombinare un po' il suo ordinamento o la sua velocità e quindi devono essere mandate fuori la salvezza invece ha un'ambizione completamente diversa e non ha a che fare con quell'elemento della realtà tipicamente linguistico ma ha a che fare con l'elemento ineffabile per dirlo in un attimo di cosa sto parlando con questo elemento ineffabile non sto parlando di qualcosa di particolarmente bizzarro io mi sto riferendo semplicemente a quella che in metafisica e nel parlare quotidiano si chiama l'esistenza l'esistenza delle cose per esempio di questo oggetto si possono dire infinite cose quando poi ci si interroga sul fatto che questo oggetto esiste quello diventa uno scoglio oltre il quale le parole non vanno il mero esistere delle cose il puro esistere delle cose è un elemento ineffabile delle cose e ci indica che c'è una dimensione all'interno delle cose il loro essere non esserci ma il loro essere che è al di là del linguaggio ora l'essere di questo oggetto è lo stesso mio e dello stesso di chiunque e a quel livello le compartimentazioni differenze linguistiche non si applicano più quel livello ovviamente è al di là anche del tempo e dello spazio dal momento che il tempo e lo spazio sono delle categorie di tipo generalmente linguistico nel loro svolgersi essere catalogate che sono tipiche dell'esperienza percettiva direi sicuramente umana probabilmente anche animale adesso non lo sappiamo se gli animali hanno una percezione spazio-temporale simile alla nostra ma che non appartengono alla realtà in quanto tale già Kant devo dire anche molti prima di lui l'avevano intuito dunque questo elemento ineffabile che c'è dentro di me che c'è dentro questo oggetto è un elemento che supera il mondo già da sempre e che già da sempre è libero ed esterno alle vicende del mondo in questo senso questo elemento è sempre già salvato ma questo elemento non solo è sempre fuori sempre libero sempre già salvato e sempre in comune con tutti che fluisce in mezzo a tutti ma 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 è un elemento che insomma che ci porta anche a guardarci con un rapporto diverso rispetto anche gli uni con gli altri a dare un'idea di delle possibilità di intenderci noi come oggetti linguistici gli uni con gli altri nelle nostre diverse identità da una prospettiva particolare nel senso che se noi ci concentriamo su questa prospettiva ineffabile e ci identifichiamo con questa guardando alle prospettive linguistiche ci accorgiamo del loro essere artificiali del loro essere delle prospettive puramente artificiali utili forse necessarie non immodificabili ma soprattutto mai naturali ecco quando si arriva quando si arriva a cogliere questa non naturalità della natura e artificialità fondamentale della natura si guarda già il mondo dalla prospettiva della salvezza perché è da quella prospettiva che è al di fuori del tempo dello spazio che è sempre già salvata che sempre è e sempre sarà perché è l'eternità che è diverso dall'infinità ecco da questo punto a questo punto arrivano i mistici generalmente ma da questo punto partono i rivoluzionari e soprattutto gli insurrezionalisti questo è il punto di partenza io credo da cui vengono i movimenti di insurrezione più profondi cioè da una posizione che è già sempre fuori e che da fuori rientra dentro il mondo con il coraggio e la capacità di modificare tutto perché tutto è modificabile nulla è immodificabile ma per poter avere questa coscienza uno deve avere anche un piede fisso da qualche parte se il mondo è completamente modificabile il piede fisso dove ce l'hai ce l'hai nell'ineffabile e questo è qua per tornare all'altro primo commento è anche il punto di contatto ancora una volta fra il misticismo e l'archismo chiarissimo allora non vi metto un po' di spunti appunto chi volesse approfondire oltre a origine può andare in Gregorio Diniz in Schleiermacher in Fontaltasar il tema è straordinario e poi appunto prima o poi vedremo anche in Italia il prossimo libro di Federica Campagna e lo potrete leggere direttamente ma se leggete in inglese potete già attingervi mi veniva in mente una riflessione sulla bestemmia e sulla blasfemia perché pensavo a uno dei logo i principali quantomeno tra quelli di mio interesse che riguarda il peccato mortale della bestemmia contro lo Spirito Santo e cioè sei brutto e cattivo comunque se bestemmi contro gli altri due della Trinità però se bestemmi contro lo Spirito Santo è peccato mortale come dire nella nella visione teologica cristiana perché sono state date delle interpretazioni e a questo passaggio evangelico una delle più interessanti che mi sembra in linea è che maledicendo lo Spirito Santo si riconosce la portata dello Spirito e si sceglie di posizionarsi nello scacchiere dalla parte del diavolo e a me sembra particolarmente pertinente con il lavoro che hai fatto e con lo svolgimento della diciamo così del processo di funzionalizzazione e di finzionalizzazione operato dalla tecnica ti ritrovi in ciò che sto dicendo o devo andare per altri liti no no assolutamente io scusa beve mi approfitto ma sulla basfemia tra l'altro è molto interessante quando beh diciamo quando si parla magari soprattutto nel diciamo negli ambiti più avanzati di un discorso religioso di qualunque tipo di qualunque religione negli ambiti più avanzati quelli che poi tendenzialmente tengono la mano a chi si fa chi si occupa di misticismo in maniera diretta e quindi spesso non scrive si si occupa molto del problema di come si può parlare di Dio perché le tipiche bestemmie in cui si dicono delle parole insultanti legate a una divinità non è quello il problema perché la divinità per come si intende un Dio onnipotente totale un Dio che coincide con tutto ma è al di là di tutto ecco quali parole sono giuste per parlare di questo Dio buono compassionevole sono queste le parole esatte ora nel dibattito ortodosso della chiesa ortodossa c'è stato un grande lavoro che si è sviluppato a partire da un autore precedente che si chiamava Dionigi lo pseudo Dionigi un tizio molto interessante nel senso che è un autore molto più tardo che si firma con il nome di questo Dionigi che era presente al tempo di Gesù predata le proprie opere insomma alla fine non sappiamo veramente chi è ma ha fatto questo lavoro quasi da Pessoa e Dionigi scrive a un certo punto nei nomi divini se non sbaglio che quando bisogna parlare del divino prima di tutto bisogna tenere a mente che non si possono mai usare termini positivi cioè non si può mai cercare di descrivere il divino ma poi che se proprio lo devi fare se proprio devi dare un aggettivo a Dio o devi mettergli un'immagine in un dipinto per ricordare la forza di Dio non usare il leone non usare un fuoco gigantesco un gigante ma piuttosto usa un verme usa un porco perché perché soltanto usando dei termini che subito ricordano all'ascoltatore o a chi vede che quella parola non basterà mai che nessuna parola basterà mai per cogliere l'ineffabile soltanto così si rischia il rischio della bestemmia vera la bestemmia vera è quando si pensa che dicendo quella parola si è colta l'essenza della divinità quella è l'idolatria che poi è veramente la bestemmia paradossalmente invece secondo l'opseudo di Onigi non è così è invece quella che noi oggi riferiremmo come bestemmie potrebbero essere intese invece come i modi più corretti per cercare di riportare alla mente di un'altra persona il ricordo della divinità detto quello lo spirito santo è molto interessante devo dire allora all'interno della costruzione trinitaria la costruzione trinitaria è un 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 capolavoro filosofico devo dire di complessità ed è veramente una struttura molto interessante la figura dello spirito santo è veramente molto interessante perché tra l'altro nel pensiero normale non si capisce bene che cosa ci stia lì a fare c'è Dio Padre c'è Cristo e questo spirito santo che a che serve ovviamente a che serve non posso rispondere in un attimo anche perché il discorso non saprei neanche dare una risposta vera e definitiva ma ha una funzione diciamo che può essere letta in tanti modi un modo di per leggerla io suggerisco è così pensiamo quando parlavo prima della pura esistenza come ineffabile di quel livello della realtà all'interno della realtà quello che nella Dvaita Vedanta si può chiamare Brahman o Atman a seconda di come da che punto si guarda di quel assoluto sé interiore che c'è di tutte le cose dello stesso ma al di là del linguaggio quello che fa il lavoro di pensare quando tu pensi quello che ti chiama da dentro quando dici il tuo nome e così via questo può essere identificabile con la divinità suprema il dio ineffabile dei neoplatonici il dio padre sia poi per un altro livello della realtà che invece è percepibile e può essere colto a livello linguistico questo può essere avvicinabile all'idea del figlio dell'internazione c'è un passaggio però qui che viene in qualche modo a mancare in che modo l'uno in che modo il silenzio si fa parola ecco lo spirito santo è esattamente questo punto cioè va a toccare quel punto che è il collegamento fra l'ineffabilità e la parola e in questo senso mi sembra nelle figure della trinità quella più interessante soprattutto per chi si occupa di produzioni culturali di 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 produzioni artistiche esattamente di questo mistero cioè del mistero di come in qualche modo il silenzio riesca a parlare e si possano tenere insieme in una coincidenza di opposti l'ineffabile e il linguaggio come si fanno a tenere insieme ci vuole tra virgolette lo spirito santo che ha una funzione io direi essenzialmente angelica cioè di collegamento ora si potrebbe pensare che secondo me si ritrova questa struttura tenitaria anche in altri in altri sistemi penso per esempio nel sistema olimpico cioè degli dei olimpici sia urano che è il cielo nella sua assoluta ineffabilità nella sua invisibilità fra l'altro urano il cielo che non vedi il padre e poi sia appollo che il cielo che vedi è come il sole è quello che è quello nel cielo che fa vedere quello che rende tutto coglibile linguisticamente per così dire e poi c'è una figura di mezzo che è zeus che per l'appunto è la divinità principale perché è il punto di collegamento sono i fenomeni atmosferici cioè il momento in cui il cielo invisibile si fa manifesto il tuono il lampo il fulmine ecco quel punto di passaggio specifico quel punto angelico si ritrova in molti sistemi nel sistema trinitario io credo si possa ritrovare nello spirito santo e per l'appunto il diavolo che è quello che fa che originariamente etimologicamente diavolo viene da diaballe in quello che separa il diavolo è quello che toglie lo spirito santo quello che toglie questo cardine che tiene insieme silenzio e linguaggio li lascia separati ecco quello è il diavolo eh se ci pensi l'opposto del diavolo etimologicamente non è Dio ma è il simbolo su un ballo tanto quanto diavallo no? cioè separo e tengo insieme penso al riflesso agnostico o agnostico se vogliamo dell'uomo occidentale in Corben e poi mi veniva in mente un libro che ho letto che abbiamo presentato recentemente anche sia online che dal vivo alla festa della filosofia forse è capitato di leggerlo Marco D'Eramo che è un un ottimo filosofo giornalista che ha scritto Dominio ehm la guerra dei 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 ricchi contro i i deboli ora non ricordo se fosse dei dei ricchi contro i sudditi non ricordo bene il sottotitolo Feltrinelli eh ottobre duemilaventi è uscito in cui lui fa un riferimento chiarissimo come dire ripercorre le gesta del neoliberismo e mostra il cambiamento del paradigma culturale cioè racconta di come tutto è stato forgiato negli anni a partire dagli anni quaranta poi nello specifico sessanta nelle università americane vedendo questa controcultura imperante o mio imperante che cercava di esprimere la propria egemonia e questi grandi proprietari terrieri latifondisti vedendo minacciato il proprio impero come dire cominciarono una serie di pressioni culturali politiche una manovra collettiva per trasformare una mentalità in modalità affine a quelle come dire descritte da Pasolini che raccontava di come diciamo così il potere contemporaneo è riuscito a farsi estremamente più pervasivo il Pasolini finale degli ultimi anni che sostiene che la televisione sia riuscita a fare ciò che invece come tu racconti anche a un certo punto nel libro sia riuscito a fare quello che il fascismo ad esempio in Italia non era riuscito a fare ma il tratto interessante nello specifico di Deramo che mi ha colpito al tempo e che mi sembra coerente con un passaggio con una serie di passaggi che tu compi in magia e tecnica che è appena uscito per edizione è quello riguardo alla trasformazione della mentalità dell'Occidente che ha reso quindi come pensiero neoliberista ha costretto le persone a considerarsi perennemente lavoratori perennemente in competizione e quindi a screditare qualunque forma di bontà perché perché non esiste la gratuità esiste semplicemente l'utile esiste semplicemente come dire il rendere la realtà funzionale al proprio operato e di conseguenza non esistono dei non imprenditori tutti sono imprenditori di se stessi perché tutti possiedono un corpo di conseguenza possiedono un corpo possiedono come dire la disposizione all'impresa l'obbligo quasi ad imprendere e mi pare che questo sia uno dei canoni nel come dire del percorso tecnico come dire relativo alla tecnica del tuo testo e vorrei che ci porti su questo e poi anche spostare il focus successivamente sul tentativo di diciamo così genesofisti meglio scusami gli stoici che dicevano far brillare l'esistenza filosofare come tentativo far brillare l'esistenza e tu ti riferisci sempre al brillio allo shining diciamo così alla luccicanza ma la luccicanza dell'ineffabile ossia impostare un sistema di visione del mondo l'interpretazione del mondo che non metta l'ineffabile sotto al tappeto ma che renda diciamo l'atto stesso dell'interpretazione della realtà uno strumento per produrre come dire non necessariamente in ogni momento ma diciamo con una discreta costanza la consapevolezza dell'ineffabilità ossia del dover ricorrere alla comprensione dell'essere in sé fittizio dell'istituzione ok allora ok cercherò anche qua di toccare gli argomenti il meglio che riesco sì c'è stata effettivamente una mutazione antropologica diciamo come diceva Pasolini nel ventesimo secolo e è interessante tra l'altro come stavo proprio l'altro giorno stavo guardando un documentario su Stuart Hall Stuart Hall non so se è pubblicato in Italia spero di sì l'inventore dei cultural studies ed era era un professore di origini giamaicane ma anche britanniche che viveva in Inghilterra e commentava a un certo punto delle trasformazioni che stavano avvenendo nel mondo occidentale soprattutto nel periodo degli anni settanta e come si stava veramente trasformando di nuovo tutto quanto non era la prima volta nel senso che nell'ultimo secolo nel senso che nel ventesimo secolo è stato un secolo pieno di trasformazioni soprattutto di trasformazioni antropologiche quella denunciata da Pasolini appunto veniva dopo una precedente e di cui scrivevano autori che con Pasolini non hanno niente a che fare potrebbe partire dalla prima guerra mondiale una situazione diciamo una situazione che non è soltanto un episodio bellico una grande guerra la grande guerra ma è anche un momento in cui si vede che qualcosa è veramente cambiato nelle guerre napoleoniche era la grande carica della cavalleria di Murat che andava e sfondava le linee ed erano i soldati con i loro splendidi uniformi insomma in qualche modo erano loro con le loro armi il cannone e così via però tendenzialmente erano i soldati che combattevano le armi erano appendici nella prima guerra mondiale sono le armi che combattono e poi i soldati sono delle appendici un po' goffe che se sbagliano il tiro rovinano queste bellissime armi in quel periodo c'era un autore che si chiamava Ernest Junger che per un punto con Pasolini non avrebbe avuto nulla a che fare che era un rivoluzionario conservatore uno scrittore straordinario un uomo discutibile su molte parti della sua vita ma un autore geniale che aveva notato come si stesse andando verso la trasformazione del tipo umano cioè il modo di intendersi il sistema di realtà ecco il sistema di realtà si stava trasformando e lui è uno dei primi che parla di tecnica in questo senso nel senso che poi uso io e in questa trasformazione che poi io descrivo nel libro diciamo io ho visto il finale del film che Junger non ha potuto vedere perché è morto non tanto tempo fa tra l'altro è morto a 103 anni nel 98 pensa nel 1895 quando hanno inventato i raggi X è morto nel 1998 quando è fondata Google ma io poi ho visto quello che è successo dopo e l'ho raccontato e in questo sistema non soltanto la realtà cambiava diventava tutta pronta a essere tradotta in linguaggio e in produzione ma l'essere umano non era più un individuo ma diventava tendenzialmente un tipo e questo tipo era il tipo del lavoratore ora lui pubblica questo libro nel 1932 in cui parla di questa cosa l'operaio si chiama un libro di un distopico incredibile anche se è molto entusiasta e abbiamo visto poi come questa cosa nei totalitarismi di quel periodo si andasse sviluppando sia in Russia sia in Germania un po' meno in Italia dove la figura del lavoratore ha sempre avuto meno successo diciamo come figura libidinale e questo è una cosa che poi successivamente diciamo si è sviluppata in quel periodo era forte l'idea che tu tendenzialmente esistevi in quanto lavoratore perché eri parte di una comunità una comunità tremenda e asfissiante una comunità come un formicaio una comunità totalitaria terrificante in cui potevi essere parte di questa comunità soltanto se ti riducevi a essere un lavoratore con gli anni settanta il neoliberismo Thatcher la Reagan Reagan e tutte queste trasformazioni in cui questa idea comunitaria svanisce ci sono soltanto gli uomini le donne le loro famiglie la società non esiste diceva Margaret Thatcher ci sono soltanto gli individui magari fosse vero ma invece non intendeva quello lei intendeva che la comunità nel neoliberismo non è più attorno a te che ti soffoca e ti costringe da fuori che ti fa mettere la camicia nera per esempio e fare il saluto ma ti entra dentro e allora in quel punto sei completamente isolato dentro la tua casa da solo e dentro di te hai la comunità intera con tutta la sua forza di polizia che ti controlla e ti controlla e ti costringe a essere un lavoratore ma molto peggio di prima perché alla fine prima almeno Charlie Chaplin quando finiva di svitare bulloni con le mani che ancora facevano così però tornava a casa e si faceva i fatti suoi invece adesso no perché tu continui a fare così dentro di te fino all'ultimo momento ogni volta che consumi ogni volta che leggi un articolo ogni volta che dai una preferenza o scrivi un commentino su Facebook quindi diciamo lo sviluppo del lavoratore è un il tema fondamentale io credo degli ultimi centovent'anni sicuramente ora questa idea che bisogna essere perennemente al lavoro ha anche a che fare con un'idea della realtà cioè nel senso perché la gente è impazzita a un certo punto è iniziato a pensare che bisognava essere costantemente al lavoro erano stupidi non erano stupidi le persone si comportano e danno senso a ciò che fanno a seconda del sistema di realtà in cui credono quale di questi sistemi di realtà è vero? nessuno sono tutti ugualmente falsi e tutti ugualmente veri ora però a seconda di quale scegli alcune cose hanno senso e altre cose non hanno più senso per dare senso a questa idea di essere perennemente al lavoro con l'anima al lavoro diceva Bifo in un libro di qualche anno fa bisogna pensare che il mondo che la realtà è caratterizzata da una povertà totale che la realtà è caratterizzata dal vuoto e dalla povertà e che soltanto con il nostro duro lavoro riusciremo a metterci una stilla piccolissima di ricchezza in questo mondo poverissimo quello che io cerco di fare parlando invece di un sistema della realtà basato sull'idea dell'ineffabile è che al cuore delle cose c'è una ricchezza totale ed è esattamente l'opposto sulla base di un'idea della realtà come un mondo che parte sempre già salvato sempre già ricco sempre già fuori che si può intervenire nel mondo linguistico non con quell'angoscia di cercare di strizzare due gocce d'oro diciamo da questo deserto ma invece di avere a che fare con un mondo in cui noi partiamo già con un agio e siamo in grado di avere la bontà per esempio di cui parlava Andrea poi io non mi occupo specificamente di etica mi occupo solo di metafisica quindi sono soltanto nel mio angolino e quando parlavo di questa ricchezza usavo effettivamente la metafora della luce ora detto questo nel mio libro io cerco di fare qualcosa di originale nella costruzione nella struttura nel contenuto mi auguro di non aver detto niente di originale sarebbe un guai se l'avessi detto nel senso che io cerco di continuare di portare insomma all'attenzione dei lettori una serie di discorsi di tradizioni che esistono da tempo immemorabile e che non ho inventato ovviamente io e che ritrovano nella teologia negativa per esempio che vedo che c'è un commento al volo sicuramente un elemento ma che come dicevo prima ritrovano nel sufismo hai letto chi l'ha scritto il commento? Re maggioru ma li trovo insomma dicevo che che trova nel sufismo molta ispirazione ma poi anche nella filosofia persiana e in particolare in un pensatore persiano del XII secolo che si chiama Sura Vardi non trovate molto di Sura Vardi è disponibile però trovate Enrico Orben che ne scrive molto bene io mi sono approcciato a lui attraverso il lavoro di Enrico Orben Sura Vardi era un tipo molto interessante che oltre alle tante cose interessanti che ha scritto ha fondato una scuola che si chiamava dell'illuminazionismo in cui cercava di discutere tendenzialmente qualcosa di simile a quello che io cerco di definire come ineffabile e il mistero di come questo ineffabile si connetta al linguaggio e usava la luce come metafora e quindi in questo senso io ho ripreso la metafora della luce e l'ho tenuta effettivamente come notava Andrè anche negli aggettivi lì semplicemente è un espediente letterario nel senso che per dare più risalto a qualcosa bisogna espandere la metafora anche poi alle parti verbali e aggettivali comunque sì questo è il motivo per cui ho scelto in particolare quella e se leggete sulla Vardi scoprirete perché perché la spiega anche perché la luce funziona bene come metafora concordo a proposito volevo proprio chiudere con un passaggio di di Corben nelle note lo citi lo citi spesso ma nel passaggio a cui faccio riferimento la nota 252 anche perché noi abbiamo detto che l'apocatastasi non c'è in questo libro in forma esplicita ma c'è in forma implicita perché il finale del libro in fondo è pura apocatastasi possiamo dirla così e cioè il fatto che siamo già salvati lo dici sia nella nota 251 che nella nota 252 che quando fai riferimento a Zagajewski che quando fai riferimento poi a Corben lì dici proprio questo sciogliere il dogma il simbolo il il mazar che 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 significa proprio l'atto di sciogliere il dogmatismo allora vorrei chiudere proprio con questo perché anche lì il visto che non è un romanzo possiamo fare lo spoiler della poesia finale questa dinamica diciamo così stellare e luminosa pertiene anche al tuo tentativo di scioglimento del dogma che passa dalla presenza delle stelle anche in piena luce sì beh guarda in realtà stavo pensando che dammi un secondo che prendo un libro che ho qua proprio in questo istante mentre lo descrivi tu mi è venuto in mente e mi approfitto per farvi vedere la copertina del libro che magari non l'avete vista chissà se lo trovo se è qua ah eccole qua le falene allora per quanto riguarda il problema del dogmatismo volevo leggere una piccola cosa per concludere è veramente piccola sul problema del dogmatismo faccenda difficile nel senso che mi viene in mente per esempio il problema del dogmatismo nella tradizione ortodossa l'ha un problema forte perché ci sono c'è una tradizione mistica molto forte c'è una tradizione di teologia negativa molto forte ci sono spinte ereticali molto forti in assenza tra l'altro di una chiesa centrale con lo stesso potere un po' totalitario che ha avuto la chiesa cattolica e quindi il problema del dogma diventa molto complicato nel senso che come si il dogma è bene o è male c'è un autore che si chiama Vladimir Lovsky che è bravissimo e che scrive in un testo sulla mistica della chiesa ortodossa scrive lui si occupa soltanto di mistica ma scrive che il dogma è fondamentale è necessario il dogma per poter entrare in un superamento del linguaggio questo è poi il tipico problema anche della disciplina libertà insomma non è facile superare semplicemente il dogma e andare verso questo questo casino ecco là si rischia di entrare semplicemente nel casino però dall'altra parte bisogna stare attenti a non pensare che il dogma sia vero e questa è la cosa difficile come si fa a gestire un dogma che non è vero si gestisce in maniera pragmatica tendenzialmente nel senso si gestisce con un'attitudine finzionale ovvero il dogma anzi lo intendiamolo meglio delle indicazioni e dei limiti di senso sono necessari sono necessari semplicemente perché nel nostro modo di vivere noi abbiamo bisogno di avere delle coordinate spazio temporali per muoverci e di senso poter pensare e quindi il dogma nel senso di dare dei parametri al proprio sistema di realtà è necessario senza quelli si rischia veramente di disintegrarsi che non è un'esperienza necessariamente anzi sicuramente non è un'esperienza piacevole nella maggior parte dei casi a meno che non sia autoindotta in senso molto temporaneo e là è una certa cosa ma se in senso permanente diventa molto fastidioso ora però bisogna darsi appunto un senso in questo senso però questo senso bisogna anche gestirlo con le pinze e comprendere che il senso è artificiale il senso è uno strumento per un fine è quella cosa che ti consente di tenere in piedi un certo sistema di realtà e che ti consente di agire di essere vivo dentro questo sistema di realtà e che ti consente di rendere certe cose possibili certe cose impossibili questo si basa sulla base appunto del tuo desiderio estetico di rifiutare o accettare certe cose piuttosto che altre estetiche diverse possono accettare e rifiutare cose diverse se uno ha una tendenza psicopatica per esempio può avere un desiderio forse nato di rendere ovvero un sistema di realtà in cui certe cose sono possibili e altre invece sono impossibili quindi sta all'arbitrio assoluto di ciascuno andare a spingersi da una parte o dall'altra in ciascun caso però si ritrova la possibilità di rimettere delle cornici alla realtà e in qualche modo reinserire dei dogmi anche quando si parla del misticismo ora vedo che uno dice no dogma solo intelligenza eh sì però anche lì in questo caso scusate io non ho potuto leggere tutti i messaggi leggo solo i più brevi purtroppo ma però sì certo ma anche l'intelligenza stessa per poter funzionare anche l'intelligenza matematica ha bisogno di basarsi su degli assunti arbitrari nei suoi elementi Euclide parte dando una serie di assiomi due rette parolelle non si incontrano mai e così via un punto non ha dimensioni questi non li chiamiamo dogmi li chiamiamo assiomi e servono per sviluppare la geometria euclidea però sono dei dogmi ora sono dei dogmi che sono necessari per poter sviluppare un certo discorso l'intelligenza ha delle limitazioni la sapienza che è un po' diversa dall'intelligenza è comprendere che nonostante l'intelligenza abbia bisogno delle proprie limitazioni queste limitazioni non sono naturali sono possibili e poi al di là di questo c'è altro possibile Emanuella forse abbiamo bisogno di discutere un po' più a lungo perché è difficile interagire soltanto brevemente ma insomma ecco in questo senso riuscire a capire anche quanto siano completamente artificiali e per questo volevo chiudere magari o continuare chiudere questo pezzettino leggendo una brevissima poesia di Adam Zagajewski che ho avuto il piacere straordinario di avere come un endorser del libro è stato veramente gentile io gli ho scritto per chiederlo perché ero anzi sono un suo grande ammiratore lui è morto poco tempo fa e in un suo libro molto bello questo qua Dalla vita degli oggetti una raccolta più bella delle raccolte che ci sono nelle altre lingue devo dire Adelphi ha fatto un bel lavoro c'è una poesia a pagina 95 che si chiama Falene anzi Le Falene che scrive Le Falene ci guardavano attraverso la finestra chiusa Le Falene ci guardavano seduti al tavolo con uno sguardo ardente più intenso delle loro fragili ali resterete per sempre fuori dietro il vetro e noi saremo qui all'interno sempre più all'interno Le Falene ci guardavano attraverso la finestra chiusa in agosto la cosa meravigliosa la cosa meravigliosa di questa poesia lo si può cogliere quando si guardano è che quando dice resterete per sempre fuori dentro il vetro e noi saremo qui all'interno non si coglie se sono le Falene che stanno parlando o se sono loro in quella sera di agosto che stanno parlando in questo senso cogliere anche il fatto che nessun sistema di realtà è vero tutti sono possibili credo che esplosa un dibattito sul sì sul sul dogma forse anche per una sensibilità appunto italiana in particolare con una vicinanza forte della Chiesa Cattolica diventa veramente dà subito un fastidio epidermico il termine stesso di dogma però effettivamente bisogna accogliere soltanto il fatto io volevo dirlo non nel senso dei dogmi diciamo come delle verità che non si possono modificare appunto per questo lo dicevo non sono così ma come delle verità fondative di un sistema di senso per esempio se uno vuole fondare il proprio sistema di senso sul fatto che la vita è buona e sacra e non bisogna uccidere nessuno perché la vita è bene ecco oppure l'altro merita rispetto e questa è una base di fondo della propria etica questo è un dogma nel senso questo è un arbitrio un assioma arbitrario che uno pone alla base del proprio pensiero e va benissimo è necessario ma non è vero è riconoscerlo come dogma che ti fa capire che non è vero e che te lo rende possibile eh sì è anche una sai che c'è un rientro di auto come mai tu lo senti? cioè è cambiato qualcosa nella oh ora non c'è più no no abbiamo qua un ingegnere di Hamburgo che fa parte di uno dei romanzi più importanti della storia del novecento che è Hans Castor direttamente dalla montagna incantata di Thomas Mann è vero lo vedo che scrive il punto potrebbe essere l'esplorazione dei margini di queste cornici di realtà cerca nuovi modi di abitare con gli spazi che sbordano le cornici e qui come dice ci sta una domanda di chiusura diciamo così sulla sulle cornici e mi piacerebbe anche sollecitarti poi su quello che scrive Michele il dogma necessario è forse l'Alsob Cantiano la metafora il paradosso che ognuno pone alla base della sua vita tu prima parlavi anche di coniuccio oppositorum leggere leggere sempre un libro intelligenza e curiosità su tutto ciò che ci circonda e Marco scrive convenzionalità degli assiomi le geometrie non è un'idea teorema di Gödel ecco cornice io andrei unirei tutto questo nel concetto stesso di cornice sai una cosa che volevamo fare ora andremo alla biennale di Venezia a fare la deriva psicogiografica e quindi porteremo le persone al padiglione Italia io e Mauro a fare il 28 a fare una passeggiata per il padiglione per la biennale e poi li porteremo fuori per Venezia e faranno la loro diva un'altra delle idee che avevamo in mente era quella di mandarle in giro con una cornice e quindi con una cornice vuota e andare in giro per Venezia e per la biennale a muoversi con la cornice quello che voglio chiederti in conclusione è come si costruisce se si può una buona cornice personale di che materiale la paresti e come la disegneresti wow bella domanda non so se ho una risposta al volo anche perché effettivamente richiederebbe una sensibilità artigianale che forse mi manca ma stavo pensando che effettivamente i cornici effettivamente sono anche questi immagino anche per la biennale basterebbe prendere tutti quelli con gli occhiali e toglierli e tutti quelli che non hanno gli occhiali metterli e farli andare in giro e quello già basterebbe per cambiare completamente la prospettiva di quello che stanno vedendo è vero ma insomma in questo senso quando parliamo di cornice io mi riferivo poi in particolare al modo in cui anche Heidegger descrive un modo di incorniciare le cose per semplificarlo molto il modo in cui ciò che è l'essere che è completamente al di là del linguaggio e così via e delle nostre percezioni si manifesta a noi e si manifesta a noi all'interno di una cornice cioè all'interno di delle limitazioni queste limitazioni sono poi la base su cui noi strutturiamo anche il nostro senso e in parte queste limitazioni sono biologiche e hanno a che fare con le nostre limitazioni appunto come esseri umani in parte sono delle limitazioni culturali limitazioni non nel senso negativo se fossero illimitate noi non avremmo esperienza di niente ma nel senso che sono modificabili sulla base di parametri culturali e in questo senso io suggerivo appunto di modificarle ora secondo me le cornici migliori sono quelle belle e leggere ecco in questo senso nel senso che una cornice invisibile è una cornice pericolosa perché quando la cornice si rende invisibile arriva veramente la puzza di ideologia ma non ideologia nel modo in cui le destre hanno usato questo termine negli ultimi 30 anni ma ideologia nel modo in cui Slavojicek per esempio utilizza il termine ovvero quella situazione in cui le cose diventano natura in qualche modo si pensa davvero che a un certo punto qualcosa sia la verità che non ci sia alternativa perché questa è la natura questa è la realtà delle cose there is no alternative ecco quando la cornice si fa invisibile a quel punto diventa pericolosa quando ti accorgi che è una cornice che è un dogma ma che è solo una cornice che potrebbe esserne un'altra allora a quel punto uno riesce a capire come gestirla poi renderla bella secondo me è importante anche perché rende merito al fatto che tendenzialmente il creare cornice è un'attività estetica è un'attività estetica nel senso primordiale del termine perché le cornice sono quelle che strutturano le tue percezioni e danno un senso le percezioni sono le estetica appunto in greco quindi sono proprio l'estetica ecco l'estetica si occupa esattamente del rapporto primo con le percezioni crude che ti investono quindi anche investire sull'aspetto della bellezza secondo me ricorda ma poi come suggeriva Hans Castorp per l'appunto re di vivo che c'è un elemento c'è una questione di sbordare le cornici e su questo sono completamente d'accordo io tra l'altro mi trovo in Inghilterra appunto dove abito e qua mi trovo spesso a portare l'esempio del Mediterraneo per dare un esempio di cosa significa sbordare le cornici in questa parte dimenticata da Dio del mondo tra gli iperborei qua c'è stato molto meno giro migratorio dai tempi dei vichinghi e quindi l'idea del sincretismo mediterraneo è veramente un esotismo è pazzesco ma nel caso delle culture mediterranee si vede molto spesso come nell'esempio chiudiamo con l'inizio con il sincretismo come sia possibile non tanto provare a creare un sistema multiculturale ovvero in cui uno abbia degli scher abbia 50 schermi davanti agli occhi 25 diversi tipi di occhiali e in ciascuno di essi riesce a vedere una cosa in maniera diversa e tutti contemporaneamente ma piuttosto mescolarli tutti quanti insieme ecco in questo sistema che non è né di integrazione né di ghettoizzazione delle diverse cornici possibili ma di integrazione in senso scombinato cioè di sincretismo lì secondo me si riesce a cogliere anche quanto siamo potenti nel lavorare con le cornici non siamo potenti quasi in niente non possiamo cambiare quasi niente della realtà l'unica cosa che possiamo cambiare è il mondo sembra paradossale ma è così non possiamo cambiare quasi niente nel mondo però il mondo nella sua interezza quello sì e quindi lavorare appunto sul sincretismo quindi sul mescolare le diverse cornici quello secondo me da un rassicura sulla nostra capacità di farlo ci ricorda che è un'attività creativa e che è un'attività artificiale e in qualche modo ci rafforza secondo me anche nel nostro identificarci con quella posizione di qualcuno che è sì dentro il mondo io sono Federico e sono questo essere umano con queste caratteristiche ma non sono solo questo e quando vengo ridotto soltanto a quello che sembro di essere al mio genere sessuale alla mia cittadinanza al mio reddito vengo disintegrato ecco questa è una blasfemia veramente nei miei confronti e nei confronti di ciascuno ecco lavorare in maniera un po' pasticciata con le cornici così ti ricorda che tu sei da quell'altro lato della cornice anche da questo ma anche da quello e poi c'è questo spirito santo di mezzo invece del tuo lavoro con la cornice che forse è la cornice stessa forse è la cornice stessa grazie grazie a Federico Campagna ricordo Magia e Tecnica l'ultimo libro pubblicato l'edizione La ricostruzione della realtà grazie davvero Federico e grazie a chi ci ha seguito grazie a voi e scusate se non siamo riusciti a rispondere a tutte le domande ma magari avremo modo a presto